La celeberrima Badia Morronese o di Santo Spirito si trova su una breve diramazione della statale sul Monapopoli, presso le rovine del santuario di Ercole Curino e della Fonte d'Amore, che si ritiene anche citata da Ovidio. Per poter visitare gli ambienti che già furono monastici, bisogna chiedere l'autorizzazione del direttore della Casa di Pena, che oggi occupa il luogo, cioè in pratica ci si rivolge sul posto direttamente. Il complesso è d'impianto monumentale, con torri quadrilatere agli angoli, circondata da un alto muro di difesa al cui interno si trovano tre corti. La fama al luogo viene dal fatto che qui fu Anacoreta Pietro Angeleri da Morrone, il futuro Papa e Santo Celestino V, nella seconda metà del 1200. Egli stesso fece costruire la chiesa dello Spirito Santo, con l'annesso monastero, e qui nel 1293 si tenne anche il capitolo generale che stabilì il monastero come sede dell'ordine dei Celestini. Pietro Angeleri era nato probabilmente a Isernia, verso il 1210, ed era entrato a vent'anni nel monastero di Santa Maria di Faifula. Abbandonato questo luogo alla ricerca di una maggiore severità di costumi, si ritirò per cinque anni sul Monte Morrone, presso sul Mona, conducendovi vita durissima. Quindi, per sfuggire a quanti venivano a consultarlo, salì addirittura sulla maiella. Santa Maria del Morrone deve essere stata iniziata soltanto nel 1259, cioè vent'anni dopo la presenza di Pietro lassù. Sulla maiella aveva fatto erigere capanne per i compagni dedicandole al Santo Spirito, le sue vicende di monastero in monastero, la sua pratica eremitica severissima, la sua elezione al pontificato, la sua rinuncia e gli ultimi suoi anni probabilmente non interessano alla nostra presentazione dei monasteri, ma lo indicano come un uomo eccezionale ed irripetibile. Pietro Angeleri era morto nel 1296, i suoi resti si trovano in una basilica di Collemaggio all'Aquila, ma nel 1299 Carlo II d'Angio fece ristrutturare il monastero, che ebbe altre aggiunte e abbellimenti nel 1500 e dopo il terremoto del 1706. Nel 1807 l'ordine Celestini venne soppresso, e si può considerare oggi estinto. Dal settecentesco portale si entra nel cosiddetto cortile dei platani. Di fronte si nota la facciata della chiesa della seconda metà del settecento, che presenta un grandioso organo barocco del 1681. Belli sono anche gli armadi, sistemati nei bracci laterali, e il coro ligno intagliato. Vestigia della chiesa primitiva appaiono nella cappella caldora, affreschi e sarcofagi la decorano. Scendendo lungo una botola si passa in un ambiente irregolare a cui è annesso un portico colonnato, di cui si passa nella corte dei nobili. Anche questa, con portico a pilastri, opera evidentemente barocca, e quindi nel refettorio del monastero, una delle sale più belle dell'intero complesso, tipica dell'impianto eretto nel 1600. Sopra al primo piano si possono visitare i locali dell'archivio e della farmacia. Non lontano, come si è detto, c'è il piccolo villaggio detto fonte d'amore, dai ricordi ovidiani. Ovidio era infatti nativo di Sulmona. E sotto le aspre rocce dell'eremo dedicato a Santonofrio, le straordinarie rovine del santuario di Ercole Curino. L'eremo di Santonofrio fu il rifugio di Pietro Angeleri, dove gli sopravviveva vestito di una pelle d'asino e cibandosi di radici e frutti del bosco, e dove Carlo II d'Angio salì per convincere il monaco penitente ad accettare la carica pontificale a cui era stato eletto all'Aquila. Si tratta di una piccola chiesa, oggi dalla cella tutta frescata, opera di un contemporaneo di Pietro, gentile da Sulmona. Alla parete sinistra c'è un ritratto del santo monaco della prima metà del 300. La solitudine è grande, il panorama stupendo, la suggestione inenarrabile.